E lì appare la Madonna, dentro una cappella abbandonata, appare la Madonna. E la Madonna dice una cosa che sembra quasi in contrasto con quello che ha detto suo figlio due giorni prima. Benediciamo e glorifichiamo il Padre. Figli miei, ora siete nella terra che darà frutti di santità. Grazie perché mi aiutate ad entrare in questi cuori bisognosi di amore. Da questa nazione, siamo in Russia, da questa nazione si effonderà una nuova luce che illuminerà tutto il mondo. Quando ogni chiesa sarà ricostruita o riparata, allora avrà inizio una nuova era e il mio cuore immacolato trionferà. Vi accompagno, vi benedico tutti stringendo via me. Cosa ha detto cento anni fa la Madonna? Ha chiesto la consacrazione della Russia al suo cuore immacolato per evitare che spargesse errori eccetera eccetera, perché annunciava che in quel secolo, il ventesimo, la Russia avrebbe fatto di tutti i colori. E la Madonna che cosa ci sta dicendo con questo messaggio? Almeno ci sembra di capire questo, che proprio dalla Russia inizierà il trionfo del suo cuore immacolato. Ecco i paradossi di Dio, avete capito? La storia cambia, ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili eccetera eccetera. Il paradosso e questo messaggio profetico ci dice che cosa? Ci dice che proprio dalla Russia partirà una luce nuova che illuminerà il mondo intero.